Ciao, mi chiamo Nicola Dusi. Ho deciso di registrare questo appello perché ho bisogno del tuo aiuto. Questa mattina, 19 agosto del 2009, ho smarrito Luca Palladini. Luca è un cucciolo di uomo. Io amo immensamente gli uomini e Luca è proprio come un figlio per me. L'ho smarrito la stazione centrale di Brescia e siccome non siamo ancora riusciti a ritrovarlo, ho il timore che possa essere salito su un treno, quindi potrebbe essere ovunque, Soiano, Soncino, Polpenazze, Edolo. Insomma, ho bisogno del vostro aiuto per ritrovare Luca. Diffondi questo appello. Aiutami a ritrovare Luca. Grazie.